E' morto nelle scorse ore Cesare Pompiglio, conosciuto opinionista, tv e grandi tifoso della Juventus, famoso al pubblico per essere spesso ospite a Tele Lombardia nelle trasmissioni calcistiche dell'emittente Lombarda. Pompiglio è morto all'età di 73 anni. Secondo quanto si apprende, circa due anni fa era stato vittima di un malore. Successivamente si era sottoposto un delicato intervento anche se ultimamente non si avevano più avuto notizie del suo stato di salute. La triste notizia è stata data da Fabio Revezani, direttore responsabile di Tele Lombardia sui social network. Ho una terribile notizia da darvi, purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompiglio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l'idea del vuoto che proviamo.